Sì, oggi Sala d'Ercole è piena di giovani colleghi, i ragazzi che vedete dietro sono stati deputati per un giorno e hanno aderito al progetto Giovani Istituzioni. Oggi è la loro festa e li abbiamo voluti ringraziare per tutto quello che ci hanno trasmesso donando loro la gazzetta ufficiale delle piccole istituzioni, ovvero la raccolta di tutti i disegni di legge che nel corso di questi mesi hanno pensato, scritto, discusso e poi votato in aula.